Salve, sono Simone Polognoli, volevo un'informazione sul costo per quanto riguarda il pernottamento per l'8 e il 9 e il 10 marzo, quindi per la notte dall'8 al 9 e dal 9 al 10. Sì, Simone Polognoli. Siamo in 5, non ce n'è una da 5 direttamente, perché poi mi devo portare pure il mitra, quindi non so se mi entra in camera, se prendo la doppia. Quindi per forza una tripla, una doppia, no? Esattamente. Ok, il costo più o meno quanto sarebbe? 4, la tripla, la colazione inclusa. Ok, grazie mille. Buona serata.